Il tema dell'SG è un tema che è nato da Kofi Annan, una singola persona ha fatto la differenza. Nel 2004 Kofi Annan ha chiesto che fossero integrate le politiche di impatto sull'ambiente, sulla società, a tutti i principali operatori finanziari. Oggi, a distanza di pochi anni, vediamo come questo fenomeno è cresciuto enormemente. Oggi in Italia noi possiamo portare avanti questo tema dell'investimento perché non è solo una questione etica, ma è anche una questione di ritorno dell'investimento. Abbiamo visto molti dati e molte ricerche che oggi dimostrano il fatto che investire nella comunità porta benefici anche al capitale. Il tema degli investimenti di Tesla che automatizza tutto ma ha un impatto importante sulla disoccupazione e perde in borsa recentemente. Dall'altra parte Amazon che investe nel riformare le persone che licenzia per poter, o almeno una parte delle persone, queste 16.000 magazzinieri che ha riformato, per poterli portare di nuovo sul mercato. Capiamo che le aziende devono poter gestire questo tema perché è un rischio per loro ed è un ritorno di immagine, è un ritorno sulla comunità, è un ritorno anche finanziario per le aziende e per gli investitori che investono in questa direzione. Olivetti è stato un grande esempio di innovazione italiana nello scorso secolo e ha innovato in molti modi, alcuni dei quali sono proprio stati sulla comunità. Per esempio ha creato l'ultimo palazzo uffici che lo ha creato a forma di ospedale, in modo che quando non fosse più utile all'azienda potesse essere utile alla comunità. Ma ha introdotto molte altre innovazioni come il sabato festivo che ha introdotto proprio Olivetti in Italia, ha introdotto molti aspetti che erano innovativi dal punto di vista della comunità e nonostante ciò ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista dell'innovazione. Le due cose devono andare assieme e vanno assieme. Le aziende che investono in termini di impatto sulla società, impatto sull'ambiente, hanno dei ritorni economici più importanti. Lo abbiamo visto con tutti i dati di oggi.